Farmaci, Banco Farmaceutico, sempre più poveri rinunciano a medicine non rimborsate. Verso Farmacista Più Leopardi, il 20 ottobre, assegnazione e premi, ecco quali. Accordo Regione Toscana, Federfarma Toscana e CISPEL per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali in farmacia. Buongiorno e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. L'aumento dei prezzi mette in ginocchio le famiglie italiane. Un problema che ormai non incide solo sulla spesa alimentare, ma su altri beni di prima necessità, come i farmaci. Secondo il presidente di Banco Farmaceutico, Sergio D'Agnotti, i cittadini spesso si trovano costretti a rinunciare all'acquisto di medicinali necessari, ma non rimborsati, come un antidolorifico o un antifebbrile. È una situazione che ci preoccupa molto se consideriamo che gli ultimi dati indicano come disponibilità da parte dei nuclei familiari disagiati un budget per la spesa privata di 30 euro l'anno, spiega la DN Cronos Salute D'Agnotti, che si dice convinto che in questa fase storica, caratterizzata da emergenze continue, l'impatto sarà molto forte sul piano della rinuncia alle cure per molti, perché ancora tante famiglie non si sono rese conto di quanto sia aumentato tutto e per quelle che già faticano sarà ancora più difficile. Per la non edizione di Farmacista Più sono stati istituiti quattro premi. La premiazione avverrà giovedì 20 ottobre alle ore 17.30. Ne ha parlato con noi Eugenio Leopardi, presidente UTIFAR. Ascoltiamo le sue parole. Noi abbiamo quattro premi che consegniamo qualcuno sotto forma di denaro, qualcuno sotto forma di riconoscimento da parte della manifestazione e quindi delle organizzazioni che ne fanno parte, Fofi, Fendazione Cannavofe, del Pharma e Utipar. Il primo premi è stato a Giacomo Leopardi e riguarda delle tesi sperimentali su argomenti che possono essere importanti nella chimica e nello sviluppo soprattutto del farmaco. Quindi riguarda soprattutto la farmacologia, guarda l'evoluzione in termini di farmaci biosimolari, di nuove attività scoperte. Anche i cittadini toscani potranno andare in farmacia per la somministrazione del vaccino anti-influenzale per la stagione 2022-23. A stabilirlo è un accordo siglato tra Regione Toscana, Federfarma Toscana e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Toscana. La vaccinazione è rivolta ai cittadini dai 60 anni in su. Con l'accordo viene riconosciuto alla farmacia un ruolo chiave, a vantaggio dei cittadini toscani, ha commentato così a filo diretto Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Grazie per averci seguito.